Con Mauro Barisciani, coach Libellula Bra, noi ci eravamo incontrati nel corso del mese di giugno dopo il tuo annuncio per una prima intervista. Adesso però si è entrati nel vivo perché dall'inizio settimana che siete al lavoro, ovviamente con la prima squadra di B1. Mauro, quali sono le sensazioni di questi primi giorni di lavoro? È un gruppo che avevo già conosciuto perché poi in realtà, a parte due elementi, gli allenamenti che abbiamo fatto a giugno erano già quasi a ranghi completi. Quindi le sensazioni sono quelle che ho avuto a giugno, adesso ovviamente siamo in luna di miele, le prime settimane di allenamento si va tutti d'accordo, è tutto bello da scoprire, novità da parte mia e da parte loro, quindi per adesso è tutto buono, bisogna vedere quando poi nel proseguire la stagione qualcuno lascerà i calzini per terra o non laverà i piatti, insomma, ma per adesso direi che sta procedendo bene, con un buon clima, un buon umore a parte di tutte e c'è anche una buona mola di lavoro. Senti, a parte questa luna di miele iniziale, ti chiedo qual è un po' il menù di questa lunga preparazione che vi porterà poi ovviamente alle gare ufficiali. Il menù è il solito, insomma, le prime tre settimane lavoriamo parecchio a livello fisico, non tralasciando le parti tecniche, abbiamo iniziato lunedì, noi faremo 13 appuntamenti nei primi 14 giorni di lavoro, quindi la mole è la cosa che ci interessa di più, poi ovviamente abbiamo bisogno di fare alcuni discorsi con la squadra a livello tecnico e tattico, quindi inizieremo da subito a 360 gradi, poi è ovvio che l'attenzione principale in questo momento è alle condizioni fisiche. Assolutamente, tra l'altro a fine luglio è stato poi disegnato quello che è il girone A di DB1, ne avevamo anche un po' parlato nella nostra prima intervista, però adesso che è ufficiale, secondo te che campionato ci dobbiamo aspettare? Un girone breve, nel senso come distanze, siamo stati fortunati, alla fine non abbiamo grandissime trasferte, a parte una trasferta in Sardegna, poi per il resto abbiamo evitato le Toscane, che sono le trasferte impegnative, quindi a livello logistico sicuramente meglio di quello che poteva accadere. A livello di organici ormai sono quasi tutti definiti, credo che sia abbastanza equilibrato, ci sono un paio di squadre con organici costruiti per fare risultato, per il resto siamo più o meno tutti quanti ai nostri di partenza allo stesso livello. Senti, è una squadra ovviamente molto giovane, è una squadra rinnovata, però secondo te che tipo di livello la vedremo in campo quest'anno? Io in questo momento ho solo delle speranze, spero che la mia squadra sia una squadra che sappia soffrire, non credo che avremo grandissime certezze, soprattutto nella prima parte della stagione perché abbiamo cambiato molto, la cosa che vogliamo raggiungere il prima possibile è una stabilità di squadra, di organico, di gruppo, di gioco, credo che forse la cosa che vorrei è che sono sicuro di lavorare per ottenere e avere una libellula che sa lavorare, che sa soffrire, che sa che in questo momento deve colmare dei gap per fare questa categoria, abbiamo bisogno di tanto lavoro. Ultima cosa che ti chiedo, quanto è importante anche lo storico di questa squadra? C'è l'esperienza già maturata in B1 perché comunque questo qua è il terzo anno? È sicuramente molto importante, tutti i passi che vengono fatti portano poi a un percorso che è un gradino step by step. Sicuramente l'upgrade più grande che abbiamo fatto quest'anno, credo, come società, abbiamo allestito una sala pesi al palazzetto, insomma abbiamo cercato di avere una logistica un po' più comoda per fare tutti i tipi di lavoro senza tralasciare sbavature nel corso della stagione. Sicuramente l'esperienza fatta insegna, insegna la società, insegna l'atleta che hanno partecipato a questo campionato, in questa squadra, insegna un po' a tutti. Speriamo di continuare a fare passi in avanti, questo è sicuramente il nostro obiettivo.